ecma 2019 non solo moto lo stand mondial c'è un novellino un rookie per dire all'inglese che anche il nome del nuovissimo scooter mondial rookie perché perché viene prodotto in cilindrata da 125 cm cubi quindi è ideale per chi si affaccia al mondo delle due ruote infatti perfetto per i anni bellissimo il look aggressivo della coda vedete con quasi un effetto aerodinamico l'aria passa da qui esce dal codone posteriore questo è lo stop queste le frecce ovviamente a led motore come abbiamo detto è un 125 cc c'è la trasmissione variazione continua come tutti gli scooter freni a disco di generose dimensioni profilo a margherita poi luci a led ovviamente anche all'anteriore le prestazioni sono quelle ovviamente di un 125 quindi tanta aggressività nel look meno nelle prestazioni però al in compenso consumi sicuramente ridotti c'è anche tante tecnologie vediamo qua sopra tachimetro analogico ma ci sono due piccoli display digitali e questo sistema che si è confermato anche la versione meno prototipale di questa sarà keyless quindi grande tecnologia questo qui è il bocchettone per il serbatoio che è posizionato sotto la pedana quindi la pedana non è totalmente piatta può rappresentare una piccola scomodità ma per la sportività il comfort a volte lo vediamo anche nelle moto viene sacrificato sulla disponibilità e i prezzi non c'è ancora stato comunicato nulla perché appunto come detto sarà in arrivo il peso di 105 kg il l'abs non c'è c'è il cbs la frenata combinata voi che cosa ne pensate del nuovo rookie del novellino fatemelo sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto il video lasciateci un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video ovviamente seguiteci sui canali social instagram facebook e twitter e per tutti gli approfondimenti sul sito www.motorbox.com al prossimo video ciao